Il laboccismo solano continua a confermarsi di alto livello. A doleggio successo per la coppia domese composta da Mario Castelli e Massimo Locatelli, portacolori della Concordia. I due si sono imposti sulle 24 formazioni partenti al mattino. Localmente invece si sono svolte domenica scorsa, sui campi di Masera, le due gare organizzate per l'appunto dal Masera Bocce. Successo nella categoria D, con il duo formato da Agostino Balsani e Luciano Gianni. In finale è stata liquidata la coppia Diego Cavo-Angelo Franchini. Nella gara individuale della categoria C, invece, ampia affermazione della Juventus Domo, con Elio Tori e Maurizio Verganti, che si sono trovati in finale. Nell'atto conclusivo della categoria D, che si è svolto lunedì sera presso il Barisola, il Masera si è preso la rivincita proprio con Diego Cavo ed Andrea Corbelli, che hanno strappato la vittoria alla Vaglio Solane con Mirko Dresco e Giuseppe Mazza, conquistando così la targa in memoria di Dino Broggio e dei coniugi Pelganta. Mentre nella categoria superiore, tutta la finale è stata targata Masera, con la vittoria di Carlo De Vecchi e Renato Ariola, su Lorenzo Frattoni ed Ezio Guerra. Il Masera, perciò, si è aggiudicato la targa in memoria di Severino. Sono in via di svolgimento i campionati di società. Entrambi sono arrivati alla prima di ritorno. In quello di seconda categoria si disputeranno questo fine settimana due incontri. Il primo, quello di domani sera, vedrà al Badulerio la Concordia, opposta alla Valle Vigezzo e dal Circolo Enel la Juventus Domo contro la Caddo. Mentre sabato pomeriggio, alle 14, scenderanno in campo a Malesco la Valle Vigezzo, contro la Juventus Domo ed ancora, alla Badulerio, la Concordia contro la Caddo. Al termine di queste due giornate, la classifica, che vede attualmente al comando Juventus Domo e Caddo con 4 punti, potrebbe dare il verdetto finale prima dell'ultima giornata di venerdì 26 maggio. Nel campionato di terza categoria, fase provinciale, in testa attualmente il Vaglio Solane, che sabato sarà opposto alla Caddo, sui campi casalinghi del Croppo di Trontano. Mentre riposa il Masera. Entrambi le vincenti delle fasi provinciali disputeranno poi la prima fase regionale del 4 giugno con 24 squadre.